La Triestina di Tesser cerca lo slancio decisivo in questo avvio di stagione e scende in campo al Voltini di Crema, la casa di una pergolettese insidiosa, reduce da un punto interno con il Renate, ci sono tante conferme nel 3-5-2 di casa con Auccelli che torna in mediana dopo la squalifica. La Triestina invece che va con il rombo a centro campo, Durso dietro le punte Finotto e Lescano, subito pericolosa la pergolettese con questo tiro di Tonoli, insiste dalla destra la squadra giallo-blu al centro, c'è Caccavo in classe 2004 però calcia fuori, è una pergolettese che gioca molto bene ma dall'altra parte gioca bene anche la Triestina, Lescano sfiora il palo e si dispera per questa occasione. E qui il colpo di testa che porta in vantaggio la pergolettese, il colpo di testa di Guio Villanova sull'assist al bacio di Piccinini, bellissima la girata dello spagnolo al primo gol stagionale. la pergolettese che torna a segnare dopo 180 minuti a secco. Finisce così il primo tempo con i padroni di casa avanti nel risultato 1-0 con la rete di Guio Villanova. Comincia il secondo con questo colpo di testa, questa volta fuori di Caccavo che va vicinissimo al gol del raddoppio, gol sbagliato, gol subito. Il sinistro che finisce in porta, la girata perfetta di Moretti con Lescano che appoggia il pallone al 42, sinistro all'angolino potentissimo, 1-1 della Triestina che la ricostruisce. dall'altra parte però continua ad essere pericolosa la squadra di casa. Cross che finisce altissimo, un quarto d'ora dalla fine, la Triestina prova ad approfittare del momento con Renan che entra in area di rigore e viene disturbato da Arini al momento di calciare. Qui l'azione decisiva, campanile alzato da Pavlev, Struna non riesce ad intervenire, il più lesto di tutti è Jacopo Cerasani che riporta avanti la pergolettese a meno di 10 minuti dalla fine, all'ottantatresimo la rete del numero 8. E' come detto il più veloce di tutti a trasformare il tutto nel nuovo vantaggio giallo-blu. Si conclude la partita con questa conclusione di Mazzarani parata da Matosevic, seconda vittoria in campionato per la pergolettese che sa la quota 7 punti e supera proprio la Triestina che si ferma a 13 risultati utili consecutivi in trasferta.